Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella yogurt e limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, yogurt al limone, zucchero, olio di semi di girasole, uova, latte, limoncello, lievito per dolci, sale e scorza di limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza di limone e lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spadola. Aggiungiamo le uova ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo lo yogurt e l'olio. e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5. Aggiungiamo la farina, il limoncello, il latte, il lievito, e il pizzico di sale ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Il composto è pronto. Trasferiamolo in uno stampa a ciambella del diametro di 24 centimetri, ben imburrato e infarinato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa. La torta è cotta. Lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambella, yogurt e limone. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!